Il presidente della regione Michele Emiliano tornerà a chiedere al ministro della salute Roberto Speranza l'istituzione della zona rossa per le province di Foggia e BAT. Lo aveva fatto due settimane fa ricevendone un rifiuto con la nostra regione, rimasta tutta in zona arancione, la fascia medio alta di rischio in questa emergenza sanitaria. I dati però degli ultimi giorni, secondo Emiliano, dicono che se da una parte il tasso di trasmissibilità del contagio è in lenta discesa in Puglia, dall'altra restano due situazioni difficili. Le province di Foggia e BAT che continuano a preoccupare e per questo, a giudizio di Emiliano, servirebbero misure più stringenti. Anche i dati odierni raccontano di un rapporto percentuale tra test effettuati e nuovi positivi superiore almeno di sette punti rispetto alla media nazionale. Picchi di contagio, che spiega Emiliano, ospite della trasmissione di La Sette Omnibus, arrivano con 15 giorni di ritardo rispetto al resto del paese. E la spiegazione, a giudizio del presidente della regione, sta tutta nel ritardo con la quale in Puglia sono state riaperte le scuole. Scelta ponderata, spiega Emiliano, che sapeva che proprio la ripresa delle elezioni in presenza sarebbe stato uno dei contesti di innesco della seconda ondata pandemica. Per questo, ribadisce il presidente, il sistema scolastico pugliese chiede di tenere chiuse le scuole. Domani scade l'ordinanza che consente ai genitori di decidere se optare per i propri figli per la didattica in presenza o a distanza nelle scuole elementari e medie. Emiliano rivela che nell'ultima riunione con il mondo della scuola la richiesta è stata quella di eliminare la didattica in presenza sino al 7 gennaio, anche se bisognerà tenere conto delle indicazioni del governo. Critico, con le dichiarazioni del presidente della regione, è il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Ignazio Zullo. Emiliano gioca allo scaricabarile, accusa, ieri la colpa era degli scienziati che non lo avevano avvertito che il Covid non sarebbe sparito in fretta e oggi se la prende con il governo che non lo coinvolge le regioni nella gestione della curva dei contagi. La colpa non è mai sua, conclude Zullo.